Amici di Rossini TV, guardate dove siamo oggi. In via Lino Liuti 4, zona Torraccia di Pesaro, all'inaugurazione di uno Scavolini Store, un luogo dove c'è la bellezza di una delle eccellenze delle nostre aziende pesaresi. Pensate che questo è il 130esimo store in Italia e ce ne sono nel mondo quasi 300. Che dire, andiamo a conoscere i suoi protagonisti perché questo luogo merita di essere conosciuto e visitato. Abbiamo lavorato sul creare delle ambientazioni che fossero quanto più possibilmente legate ad un ambiente di casa dove quindi il cliente si potesse sentire appunto a casa e quindi abbiamo cercato di creare proprio delle ambientazioni che oltre diciamo riguardare la cucina potessero anche effettivamente riguardare quella che è la zona living, la camera da letto, perché comunque negli ultimi anni Scavolini diciamo che sta cercando di ampliare quella che è poi la proposta a livello di casa. Scavolini sta cercando soprattutto in questi periodi di creare una proposta e di avere soprattutto una proposta che possa essere a basso impatto ambientale. Quindi con gli ultimi modelli usciti sono state inserite delle nuove tipologie di ante come l'anta in PET che è un'anta che viene utilizzata, viene creata tramite comunque l'utilizzo di materiali di riciclo o l'anta in Fenix che sono comunque appunto delle ante a basso impatto ambientale. Anche a livello proprio di strutture, di cucine comunque Scavolini ha sempre lavorato per creare delle soluzioni che potessero essere a bassissimo contenuto di formaldeide quindi nel rispetto dell'ambiente utilizzando comunque anche diciamo dei materiali che possano poi evitare magari le deforestazioni e quindi da quel punto di vista anche noi come store cerchiamo di seguire appunto la linea di Scavolini e di proporre sempre anche queste nuove alternative. Da oltre 60 anni siamo rivenditori Scavolini, praticamente sono nato in questo settore. Sin da quando ero piccolo montavo mobili insieme a mio nonno presso il negozio storico che abbiamo a Pozzo Alto, che avevamo perché ormai siamo in chiusura con quello e quindi sì, portiamo avanti la tradizione. Io sono la terza generazione e per me è un onore oggi essere arrivato a questo traguardo. Quanto è grande questo store? Abbiamo una superficie di 460 metri quadri dove abbiamo 11 cucine, 5 bagni, 5 living, una cabina armadio e una lavanderia. Quindi le persone possono venire qui e scegliere diciamo ciò che piace di più e poi ordinarlo? Assolutamente, abbiamo deciso di inserire più materiali possibili in modo tale che il cliente può venire a toccare con mano e assaporare quello che sarà poi l'ambiente di casa sua. Tramite anche un nuovo programma che abbiamo installato nei computer che si chiama Virtuo vedranno la loro casa in 3D come se la vivessero fisicamente in quel momento.